Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, quella in arrivo sarà domenica ecologica, previsto lo stop al traffico privato nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e poi dalle 16.30 alle 20.30. La mappa della fascia verde e l'elenco completo delle deroghe sono su romamobilita.it. In occasione della domenica ecologica in programma oltre 90 eventi con attività di animazione, intrattenimento e di sensibilizzazione sui temi ambientali e sulle azioni volte al miglioramento della qualità dell'aria. Coinvolgeranno tutti i municipi, dettagli su comune.roma.it e la domenica ecologica potrà essere anche l'occasione per approfittare della gratuità, come ogni prima domenica del mese, dei musei cimplici e dei siti archeologici cittadini.